In teorina questa giornata doveva essere la giornata degli indignati, i cosiddetti indignati. C'è da dire una cosa però, e c'è da dire una chiave lettere, che gli indignati in tutto il mondo, in tutto il mondo, si muovono in maniera totalmente pacifica e non violenta. Quello che è successo oggi è una vergogna, ma di questa vergogna ci dobbiamo fare tutti carico, è una nostra responsabilità, è una responsabilità di tutti, dire no, no, no alla violenza, perché gli indignati in Spagna occupano le case, le case che gli sfrattati lo fanno in maniera non violenta, perché in Spagna gli indignati quando occupano le banche lo fanno, ma lo fanno in maniera non violenta, perché in Israele, in Israele sono riusciti a far crescere il movimento dell'indignazione, che è un movimento non violento. a Wall Street, a Wall Street hanno fatto tutto quello che hanno fatto, in maniera non violenta. E allora, allora, diciamolo tutti, diciamolo, diciamolo con i fatti, riuniamoci in assemblea, marchiamoci negli occhi e costruiamo dal passo l'alternativa, basta con questa violenza che divide, divide i movimenti, perché lì, in corto, ci sono anche dei nostri amici. Silenzio, sarà il nostro dissenso a questa violenza che sta rovinando un movimento, un movimento fatto di tante anime, di tanti cuori. Silenzio, per due minuti! 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 I manifestanti pacifici lindignati affrontano un gruppo di picchiatori e li allontanano, li fermano, li bloccano. Questa era e del volo restare una manifestazione pacifica. Eccoli, li hanno bloccati. Via, via, non violenza, non violenza, non violenza, non violenza, non violenza, non violenza, non violenza. Non violenza, 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 non violenza. Il deciso messaggio della gente, questa era e del volo restare una manifestazione pacifica. Che cazzo fai se questo è la non violenza attiva? Non violenza, non violenza, non violenza. Arrivano gli effetti dei promogeni che costruendono gente assolutamente non violenza, non violenza, non violenza. Ad abbandonare il gazzeppo degli indignati. Non violenza, non violenza. Non violenza, 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 non violenza, non violenza, non violenza, non violenza. Non violenza, non violenza, non violenza, non violenza, non violenza, non violenza, non violenza. Un altro carro non serve! Non serve un altro carro! Vatti, non sei una storia, sei una favola! E' una favola che è finita tanto tempo fa! Non violetta! Non violetta! Non violetta! Non violetta! Non violetta! E' andati a casa! Andati a casa! Magari a Calamari! Ma cosa dovolare, porco Dio, ma di figlia di giocare! C'è carico, se non lo sto! La mia manifestazione è facile e di un bravo, signor Lorenzo! Ecco gli indignati che protestano vigorosamente contro questo decreto della manifestazione. Non violetta! Non violetta! Non violetta!